Patrizia Toia, eurodeputata e vicepresidente della Commissione Industria e Energie e ricerca del Parlamento europeo, più volte è ministro, lunga esperienza politica e istituzionale, prima in Italia e poi in Europa. Grazie onorevole di averci dato l'opportunità di questa intervista e vorremmo con lei, che conosce molto bene questa istituzione, fare una passeggiata un po' idealmente interno del Parlamento. Chiaramente faremo una passeggiata, un racconto del Parlamento europeo rispetto al nostro contesto che è quello di Apre, quindi parleremo fondamentalmente o la solleciteremo a parlare utilizzando come traccia il concetto della ricerca e dell'innovazione. Allora, facciamo un po' di icebreak intanto per cominciare a entrare un po' nel vivo. Lei ha forse una delle esperienze più lunghe all'interno... Non vorrei sembrare Martusalemme. No, no, però ha parecchie legislature alle spalle, quindi conosce questo posto in maniera molto approfondita. La prima battuta è proprio questa, un pochino generale. Com'è cambiato in tutti questi anni il Parlamento, se è cambiato, avendolo vissuto dall'interno, lo spirito, la gente, quello che è la sua sensazione? Innanzitutto un saluto, grazie anche di questo invito. Trovo molto bello anche sforzarsi anche da parte delle varie agenzie, delle varie realtà che si occupano di pezzi d'Europa o di parti d'Europa, farsi carico anche un po' di un racconto dell'Europa nel suo insieme. Cosa che purtroppo fanno poco molte organizzazioni e molte realtà, anche se le sollecitiamo. È importante perché l'Europa va conosciuta prima di tutto per usarla, per criticarla, per cambiarla, per apprezzarla, sostenerla. Qualunque atteggiamento si abbia verso l'Europa, la prima cosa è conoscerla, un pochino praticarla, eccetera. Quindi muoversi un po' all'interno dell'Europa è essenziale, anche se uno non viene a Bruxelles, anche se uno non fa attività europea, però un cittadino che deve conoscere di quale istituzione è cittadino. Per quanto riguarda il Parlamento, io appunto sono qui, è la quarta legislatura, quindi sono parecchi anni. Ero stata molto incerta se rappresentarmi o no, ma mi sentivo ancora con grande voglia di fare, con grande entusiasmo e quindi ho detto mi ripresento un'altra volta ed è andata un grande risultato. Ho visto un grande cambiamento e per fortuna positivo. Faccio un piccolo esempio. Io sono abituata, per esempio, quando devo trattare un dossier della Commissione Industria, Energia, oltre che ricerca, ma ricerca so a chi rivolgermi, ma per l'industria, l'energia, eccetera, sentire un'opinione degli stakeholder, che non sono le lobby, ma coloro che quelle realtà devono poi mettere in pratica o quelli su cui ricarda il nostro provvedimento legislativo, ma anche i rappresentanti dei cittadini, consumatori, eccetera. E mi piace andare a sentire le opinioni. E a volte mando, per esempio, sull'energia, su alcuni temi, mando alle università, per esempio, da esaminare una proposta che arriva qui, una proposta di direttiva o di regolamento, i due atti che arrivano al Parlamento in sede legislativa. E io penso che, mentre adesso c'è un gran fervore, addirittura arrivano in anticipo delle proposte, c'è una gran partecipazione. 15 anni fa, io penso che quando inviavo ai rettori o magari a delle entità economiche associative, non singole, le associazioni di categorie, eccetera, se mandavo un atto da esaminare per dire datemi il vostro parere, cosa ne pensate, immagino che, dalle poche risposte che ricevevo, che dicessero ma chi è, ma cosa vuole, ma che cosa è. Ecco, da questo disinteresse, un po' sconcerto, non conoscenza di tanti anni fa, che non era generale, ma era la prevalente reazione, poi c'era sempre chi era attivo, chi colloquiava, eccetera. E da quello ad oggi, a questo fervore di presenze, ogni settimana c'è una realtà economica italiana che chiede anche di venire, parlare, c'è davvero, e questo lo dico con grande piacere, questo dà la misura di come il Parlamento abbia acquisito, innanzitutto, non dico una centralità vorrei, ma una, come posso dire, un'autorevolezza, una conoscenza e si capisce che è il Parlamento che decide per esempio le leggi assieme al Consiglio, è un co-legislatore. In passato tutti diciamo, ho parlato con la Commissione, ma ormai la Commissione ha finito il suo compito sulla proposta di legge, di regolamento. Quindi insomma, imparare a conoscere il Parlamento, a capirne la funzione e a colloquiare col Parlamento. In questo secondo me sta il migliore cambiamento. Si è capito che c'è, che fa qualcosa di importante, che si può colloquiare, non siamo siderali, siamo qui durante la settimana, nel collegio a fine settimana, e si può parlare con il deputato, con i deputati, per discutere dei dossier e per dare le proprie opinioni. Quindi è una miglior percezione dell'istituzione rispetto a quello che era stato all'inizio. Rispetto a un'non conoscenza, diciamo, e non valutazione anche del compito. Allora, torniamo all'inizio, ma giusto per avere così un racconto velocissimo, un flash, ma lei se lo ricorda le prime battute o da quello che è stato i suoi primi momenti in plenaria o qualche cosa che l'ha colpita nelle prime battaglie? Guardate, lo dico appunto a chi ci ascolta, anche che magari dovrà praticare di più l'Europa, la sta praticando. All'inizio ti sembra tutto molto difficile, le sigle, le procedure, i soggetti, l'organizzazione. E poi, come tutte le cose, quando le conosci, le hai catalogate e ti muovi dentro con agilità e tutto è percorribile. All'inizio è un po' lo sconcerto di tutti i deputati. Se sentite un deputato europeo che dopo due giorni, anche se è stato ministro, dice che ha capito tutto, non credetegli, perché ci vuole un po' di tempo. Ma non è così lungo e poi tutta questa inconfusione working group, horizontal working group. Adesso capisci che è tutta una logica, una sua, diciamo, schematizzazione e dentro quel percorso ti muovi. È tutto molto organizzato e questo è un gran vantaggio. Schedulato, tempi, modi, eccetera. E quindi sconcerto iniziale, un po' di spaisamento, durato necessario, poi immersione totale e quindi direi... Ma è così, adesso i tempi sono accorciati, arrivano i deputati, si fa in fretta, c'è qualcuno che li aiuta muoversi. Insomma, ma questo deve valere anche per i cittadini. L'Europa è percorribile, è conoscibile e non è così complicata come a volte viene presentata. Quindi il primo sconcerto è legato alla complessità di una macchina che in realtà è complessa perché non è conosciuta, anche per chi la vive da dentro come soggetto. Un po' di complessità c'è perché voi capite, non so, un regolamento va in varie commissioni, si presenta la prima volta, la raccolta degli emendamenti, i compromessi che sono, diciamo, le fusioni tra le tante proposte, perché qui c'è poco da parlare, si deve andare un po', diciamo, in tempi organizzati, anche in aula, si parla pochissimo, due minuti, se sei tra i pochi relatori cui è stata segnata la parola. Si va lì solo per votare, tutto il lavoro è già stato fatto, lo devi esaminare nella commissione di merito, con tutte le preparazioni, lo devi esaminare nel tuo gruppo politico e anche magari come delegazione nazionale. Ecco perché, diciamo, sembra un po' un labirinto all'inizio, lo schema delle procedure, come muoversi. Però, ripeto, se hai una buona conoscenza, una buona introduzione, se capisci, vedi che ti muovi veramente agilmente in questo apparente labirinto. Diciamo che questo però era un racconto di prima, ormai dopo quattro legislature, riesci a governare il processo. Si emoziona ancora un po' ogni tanto in qualche battaglia un po' più dura? Io mi accaloro, sì, sì, anche questi giorni sto trattando i dossier, mi accaloro molto e a volte mi rendo conto che il mio tono anche negli interventi, nei gruppi, perché in aula si parla poco, nei gruppi è un po' troppo accalorato, mi dovrei magari calmare un po'. Però l'emozione, posso dire una cosa, l'ho provata forte, forte, si prova sempre. Guardate, se avrete modo di visitare il Parlamento, a Strasburgo quel grande anfiteatro che il nostro Parlamento è emozionante, perché capisci che lì sono rappresentati più di 500 milioni di abitanti, di nazioni diverse, di idee, e cercare il punto, l'unità nella diversità è veramente un esercizio difficile, ma quando riesci capisci che è Europa quella. Ma mi sono emozionata, lo dico solo in un minuto perché se no mi appassiona troppo, alla conclusione, prima conclusione perché dovremo continuare questo processo della conferenza sul futuro dell'Europa, in aula, il 9 maggio, i tre presidenti, la sanzione, diciamo, finale. Ma la settimana prima, quel fine settimana, il venerdì e il sabato, si è concluso la partecipazione. Un po' di deputati, il Parlamento ha mandato pochi deputati, io ero tra questi che facevano parte di alcuni deputati nazionali dei paesi, alcuni membri di governo, associazioni economiche, eccetera, e cittadini sorteggiati che hanno costituito il panel dei cittadini. I sorteggiati, e lì abbiamo lavorato insieme, l'ultimo giorno, ma anche in altre sedute plenarie, sedersi nell'aula, con a fianco non il solito collega o la solita collega, ma un cittadino qualunque, tra virgolette, proprio un cittadino sorteggiato, e discutere con lui delle raccomandazioni che dovevamo fare approvare, arrivare a un'intesa, una modifica, e poi sentirlo parlare in aula, il cittadino tipo, la cittadina tipo, insomma, quello è stato un momento di democrazia partecipata che è per me molto, molto emozionante. Ci torneremo su questa questione dell'engagement, che è uno anche degli elementi che abbiamo sempre avuto in Horizon Europe negli ultimi tempi, ma cominciamo proprio da Horizon Europe, cominciamo a parlare un po' di cerca di innovazione. Lei li ha visti, gli ultimi programmi li ha visti tutti, li ha visti anzi nei ruoli spesso anche importanti come rapporteur. Allora, la prima domanda è, oggi siamo su Horizon Europe, il programma che è stato lanciato di recente e che coprirà il periodo 21-27, la battuta è semplice, ma insomma, se dovesse fare una specie di fotogramma continuo, cosa ha visto di miglioramento, cosa è cambiato dal programma, dal quinto programma, quella sensazione di dire sì, stiamo andando comunque verso programmi che, al di là del budget che è quasi sempre aumentato negli anni, che cos'è che è la parola di, che cos'è che caratterizza questa crescita, che cos'è che caratterizza questa positività? Ma, secondo me, tutto nasce all'interno di una convinzione che per fortuna va crescendo, non vorrei sembrare troppo otimista, però cerco di vedere gli aspetti positivi, una convinzione maggiore dell'importanza della scienza e della ricerca. Onestamente, i due precedenti Horizon erano importanti, ma sembrava che riguardassero solo noi, che ci occupavamo sull'essante legislativo di ricerca, della Commissione, voi e i ricercatori, il mondo dell'organizzazione della ricerca. Chi era dentro? Un po' da detti ai lavori, un po' una cosa chic o importante, ma nicchia. Man mano nel tempo, e poi col Covid, la scienza è diventato un argomento quotidiano. Vedevamo gli scienziati della televisione, capivamo che da loro dipendevamo. Io una volta in aula ho detto questa frase, ma come possiamo ridurre il budget della ricerca e della scienza quando le nostre decisioni legislative, siamo lì a pendere dalle labbra degli scienziati per capire cosa fare, quando interrompere, quando riprendere certe misure. E quindi abbiamo capito tutti la centralità, ma lo si è capito anche nella sostenibilità ambientale, poi potremo parlare di quanto conta la tecnologia. Quindi secondo me la cosa più importante è che la ricerca, l'innovazione, che erano temi che stavano sul tavolo, ma stavano lì un po' ai margini, per chi se ne voleva occupare, sono arrivati al centro, almeno nella consapevolezza, nell'importanza. Poi vediamo tutte le implicazioni anche concrete di budget, però ci sono, è un salto, oggi dicevo culturale, ma forse più che culturale, proprio di acquisizione. Quindi questa è la prima cosa. Questo ha comportato anche dei programmi di Horizon molto diversi. Certamente. E li rispondevano a certe esigenze di allora, alcune costanti ci sono sempre, le persone, il capitale umano, le ricerche, tutto il filone della ricerca di base, di eccellenza, eccetera, però nella varietà dei temi, nella focalizzazione sull'innovazione tecnologica, nella anche novità delle formule, le emissioni per esempio sono una grande novità, cioè cercare forme anche diverse in cui si organizzano, io penso che questo è stato il processo di crescita, di completamento, non perché non ci fossero, ma gli altri Horizon precedenti rispondevano a quel momento e non erano così centrali nella politica europea. Oggi ci siamo proprio al centro. Quindi una grande responsabilità per Horizon Europe, cioè è un momento storico nel quale lei richiamava prima, la scienza, la tecnologia, tutto l'insieme diventa un elemento di dibattito non solo fine a se stesso, ma come elemento di costruzione. Ritorneremo su questo, una battuta proprio sul COFOE e su quello che è il ruolo, o quello che dovrebbe essere il ruolo sui ragionamenti che toccano anche il futuro dell'Europa. Rimaniamo un attimino sul tecnico, che cos'è che le piace di più e le è piaciuto di meno in Horizon Europe? Lei ha citato le emissioni, ci torneremo tra un attimo. Cos'è che... Mi piace molto, mi piace molto l'equilibrio che si è raggiunto tra la parte diciamo ricerca di base d'eccellenza, l'European Research Council e la novità che è l'European Innovation Council. Tutta da sviluppare ancora, perché non è che siamo già arrivati a imposto, però abbiamo preso il largo. Questa è una grande novità e questa cosa mi piace, anche perché erano anni che ci si puntava, si diceva, si insisteva su questo aspetto di evoluzione dalla ricerca all'applicazione tecnologica, diciamo, alla sperimentazione anche delle opportunità tecnologiche come risultati di quella ricerca. Questo è quello che mi è piaciuto di più. Quello che mi piace di meno, ma è più, devo confessare, mi piace dire le cose che dico perché sono suffragate da un'analisi, da una conoscenza proprio di analisi, altre sono più un'impressione, diciamo. Mi piace un po' di meno il fatto che mi sembra, ecco dove dico l'impressione, che manchi un coordinamento, come posso dire, delle sinergie più forti. Perché si può fare ricerca con Horizon, si può fare ricerca con i programmi strutturali, adesso col PNRE, si può fare ricerca anche con InvestU che ha una parte di investimento e quindi vorrei vedere più coordinamento di questa sinergia. E l'altra cosa che non so se mi piace meno, ma che mi preoccupa, diciamo, è che non ci sia dispersione di materie, di rivoli, troppo. E vorrei una maggiore concentrazione perché abbiamo bisogno di effetti, diciamo, di impatto. Beh, questo è un problema perché la complessità di Horizon, abbiamo detto tutti, Horizon Europe è molto più complesso e la complessità qualche volta ha anche problemi di gestione della complessità stessa. Ho visto alcune presentazioni che avete fatto, molto, molto, molto significativi. Allora, adesso, un pochino più da politico, se vuole, da cittadino che rappresenta anche gli umori, o meglio, da politico che rappresenta gli umori del cittadino. Horizon parla di scienze e tecnologie. Allora, noi siamo passati da un programma che utilizzava parole come Open to the World, le famose tre O del Presidente Commissario Moedas. Oggi si parla di Open Strategic Autonomy, un'Europa più attenta. Allora, qual è l'equilibrio tra un'apertura complessiva a un'attenzione anche a quelli che sono degli interessi strategici europei? Dove sta l'equilibrio tra questi due contrastanti? L'equilibrio sta, secondo me, nella capacità di chi promuove l'attuazione dei programmi. Non sta in una formula a priori, no? Non è garantito da nessuna, diciamo, posizione predefinita. Dobbiamo avere le idee chiare, sta prima di tutta la chiarezza dei idee. Che cosa vogliamo? Vogliamo una scienza aperta, collaborativa, che si nutre di contatti, di relazioni che non possono essere, diciamo, limitate al campo europeo. Già è molto che escano dai confini nazionali, diciamo, e che la scienza impari a colloquiare, ad aprirsi, a scambiare dati, a lavorare insieme. Però questo non può rimanere chiuso nell'Europa, quindi da un lato il volé dell'apertura, come diceva. Dall'altro, però, questa nostra strategia, perché anche la scienza e la ricerca sono componenti, diciamo, all'interno di quella che è una situazione di politica generale dell'Unione Europea, di proiezione, di geopolitica, come si dice, cioè di equilibri nel mondo e di relazioni con il resto del mondo. Quindi noi dobbiamo anche cercare di attuare quella che chiamiamo appunto autonomia strategica in tutti i campi. Vogliamo autonomia strategica nella produzione. Noi siamo scoperti di campioni in certi settori dove pretendiamo di dare le regole, giustamente. Penso al digitale, no? Stiamo facendo una produzione legislativa che dice quali sono le responsabilità delle piattaforme, come i Digital Service Act, Digital Market Act, Governance Act, quindi il possesso dei dati, l'utilizzo. Siamo il primo, in realtà, al mondo, diciamo, a definire regole così, impegnative nel rispetto dei diritti umani, anche della innovazione digitale. Però tu non puoi fare le regole se poi non presenti qualcosa al mondo, se non sei qualcuno anche come capacità di innovazione e di produzione e devi avere anche delle realtà imprenditoriali in questo campo. E quindi, insomma, dei campioni, insomma. Quindi, da un lato, autonomia strategica in questi settori, dall'altro, autonomia strategica si pensi alle risorse fondamentali, dalle materie prime, alle energie, eccetera. Stiamo ricercando sempre maggiori gradi di autonomia, che non è chiusura, non è protezionismo, facciamo da soli, non vogliamo commercio, eccetera, ma vuol dire conoscere i propri interessi, le proprie esigenze e anche un po' di protezione rispetto ad alcune realtà critiche. Quindi, nella ricerca ci sono contenuti, risultati, che possono avere un grado di criticità, diciamo, se applicati in modi diversi, e quindi l'equilibrio sarà nell'aprirci alle cooperazioni, alle partnership internazionali, avendo attenzione che su determinati temi, in determinate circostanze, con determinati paesi, forse, dobbiamo avere una forte anche cautela. Quindi, correttamente, sono d'accordo su quello che ha detto, per rimanere aperti, per difendere dei diritti, dei principi, o, se vogliamo, dei pensieri, che sono proprio quelli del sistema europeo, bisogna anche essere un player credibile sulla scena mondiale, altrimenti diventa demagogico pensare che gli altri... Diventa velleitario. ...e velleitario. Chiarissimo. Però significa anche sapersi, non dico difendere, ma proteggere anche la nostra realtà. Che significa, appunto... Anche di conoscenza, quando fosse messa in discussione in modo pericoloso, diciamo, tra virgolette. Abbiamo fatto prima già un piccolo passaggio, lei ha richiamato l'importanza del rapporto anche con il cittadino. Ritorniamo velocissimamente, un passaggio che c'è sulle missioni, ma quasi come cittadina, perché comunque le missioni... Adesso non abbiamo tempo di raccontare che cosa sono le missioni, però è stato uno sforzo molto importante della Commissione di reinventare un modo diretto proprio tra ciò che la Commissione stessa fa, quindi l'Europa fa, in termini di scienza e tecnologia, e il mondo del cittadino. Una battuta veloce. Lei è convinta di questo approccio o ancora ci sono delle cose da mettere a punto sull'idea delle missioni? Seconda, ci sono ancora delle cose da mettere a punto. L'idea era ottima, è stato un buon successo di Moedas, una buona idea di Moedas, che ha portato a molta innovazione, anche con degli esperti importanti, anche italiani e italiane, nell'approccio alla preparazione di quello che sarebbe stato il piano poi successivo di Horizon. Le missioni sono una grande cosa. Hanno questa ambizione di partire un po' dal basso, in qualche modo, cioè di sentire l'opinione della società, dei cittadini, dei portatori, per esempio l'ammissione cancro, anche dei portatori di questa patologia, eccetera, eccetera. Quindi scienziati, voce della società, in parte hanno lavorato, in parte ancora, sono usciti i bandi, ci sono i programmi di lavoro, in parte però questa componente innovativa, di una scienza un po' in mezzo alla società, possiamo dire, dove c'è ancora un ruolo del cittadino, non lo so se è stata pienamente realizzata, lo dovremmo verificare, ogni tanto in commissione consultiamo un po' i responsabili dei vari board, però da lì non riesce a capire fino in fondo, ma potrei anche suggerire alla mia commissione ITRE di prendere una, c'è un gruppo di lavoro che si occupa di Horizon, di prendere una delle missioni e di fare un check molto approfondito. E comunque è previsto anche che il Parlamento abbia in fase, sa che avremo una valutazione già a metà percorso su questo, ma non può esaminarla prima di arrivare lì, che poi sembra un po' tardi se qualcosa va corretto. Allora, prima di arrivare un po', stiamo andando verso la conclusione di fare qualche battuta sulla scena italiana, vorrei rimanere un attimo ancora sulla scena europea, un po' sull'ambito della provocazione tecnico-scientifica. Lei più volte si è trovata a parlare di intelligenza artificiale in pubblico, anche qui una domanda più da politico e da cittadino. Sicuramente siamo tutti convinti che la digitalizzazione e in particolare la componente dell'intelligenza artificiale che si accompagna a questa è un'enorme possibilità di provocazioni del cambio del nostro modo di vivere nel futuro. Però ci sono anche idee. Quanto è spaventata in quanto invece è citata tutto ciò che potrebbe essere? O che tipo di attenzione dovremmo avere? No, spaventata no, attenta sì. Io credo alla scienza e al progresso, quindi credo che prima di tutto non è arrestabile, secondo è utile. Quindi certamente credo in questa evoluzione, ci spero, diciamo, che facciano passi avanti. Penso che non possiamo restare inerti e lasciare che solo la scienza governi se stessa, la tecnologia governi se stessa. No, perché qui c'è un interesse generale dei cittadini da salvaguardare. Non è solo la scienza, non è solo l'economia e anche chi ha la responsabilità generale, la politica, le istituzioni. Dell'Europa mi piace molto che questo tema se ne è posto, questa preoccupazione, questa avvertenza, chiamiamola se ne è posta all'inizio. Pensate che noi anni fa abbiamo cominciato, la Commissione ha cominciato con una Commissione, un gruppo di alto livello che si occupava delle questioni etiche della intelligenza artificiale. Etiche non vuol dire moralistiche, sappiamo tutti bene, vuol dire le implicazioni valoriali, le finalità e chiedersi se è quello che noi ospitiamo. Adesso il regolamento sull'intelligenza artificiale, una Commissione speciale, l'Europa ci sta studiando molto, vogliamo regole che incentivino l'innovazione, le cose devono andare avanti, le norme non sono fatte per limitare, ma sono fatte per dire qual è il quadro del rispetto dei diritti fondamentali delle persone e non di altro. E quindi noi per esempio stiamo dicendo quali sono le applicazioni possibili, quali sono le applicazioni invece no, perché ledono appunto i diritti. E soprattutto vogliamo che nella formazione degli algoritmi ci sia trasparenza, perché la gente deve avere fiducia, parliamo molto di fiducia, deve essere affidabile questo sviluppo e quindi bisogna che per esempio noi si metta al naso, o chi di dovere, non certo noi personalmente come politici, ma che le regole siano tali per cui gli algoritmi siano trasparenti e si capisca se non sono creati in modo tale da generare poi volontariamente e volontariamente delle discriminazioni tra uomo e donna, tra varie realtà. Quindi è impegnativo. È impegnativo per tutti. Però è giusto, perché altrimenti saremmo degli incoscienti a consentire solo questa prateria aperta senza capire dove va a finire rispetto all'esigenza della persona. Gli impatti sono tanti su quello che potrebbe essere il nostro modo di vivere nel quotidiano. Di una manipolazione, possiamo dire, di una manipolazione, di una interferenza informativa, di un controllo sociale, di quello che è il comportamento del sistema. Io produco dati sanitari facendomi curare, eccetera. I miei dati in mano a chi devono andare. Possono essere utilizzati per una medicina personalizzata, ma devono andare in mani affidabili, perché se vanno in mani sbagliate sono problemi seri, insomma capite? Quindi tantissime cose. Allora, un paio di passaggi velocissimi sulla situazione italiana. Lei è una parlamentare lombarda, quindi ha cresciuto anche politicamente in un contesto, uno dei contesti più importanti da un punto di vista industriale, non solo italiano, ma dell'Europa. Le PMI sono un elemento importantissimo nella politica dei programmi quadro da sempre. Anche questa partecipazione ha sempre avuto luci e ombre. Ma lei, qual è stata, come ha motivato anche nel suo rapporto con il territorio da parlamentare, ma soprattutto da parlamentare che si è occupato di programmi quadro? Che cosa raccontava agli imprenditori che incontrava per dire, guardate, non tralasciate anche l'opportunità che vi dà l'Europa in questo? Ho fatto cose del genere, per esempio per convincere, perché se tu parli e dici, io detesto quelli che raccontano, le PMI sono il 99%, sono l'ossatura dell'economia, lo sappiamo tutti. Cosa facciamo per? Mi è capitato, per esempio, per convincere, in una certa preparazione, anche quando ho presentato la prima bozza di Horizon, eccetera, parlando del fast-track, della ricerca, di cui l'Italia si è giovata moltissimo, cioè di quella formula pensata proprio per le PMI, anche le due fasi, per poter non far spendere troppi soldi nella prima fase di progettazione, tutte le formule trovate, ho messo sotto un tavolo, alcuni senza pubblicità, senza convegni, senza giornalisti, ma proprio di lavoro, riunioni dei rappresentanti delle associazioni, delle PMI, e ho chiesto alla Commissione mi portate uno o due casi italiani che hanno usato i fondi per fare delle cose corrette, piccole imprese, e sono venute queste persone a raccontare che loro avevano tutte come hanno fatto. Mi ricordo una società, mi ricordo più che provincia lombarda, che diceva che aveva, grazie a un finanziamento sulla ricerca dell'Europa, aveva studiato una, non so se si chiama bitume, diciamo il materiale che si mette sull'asfalto, che era più sostenibile, era fatto in modo tale da evitare che con l'attrito delle gomme si generassero emissioni negative, e aveva fatto grazie all'Europa, conquistando fette di mercato poi per questo, un altro aveva fatto delle luci che avevano dentro qualche componente che migliorava la realtà dell'ambiente, oltre che dare luce, ecco due piccoli esempi, parlando questi imprenditori, certo hanno detto che era complicato, che c'era avuto del tempo, che avevano messo delle risorse, però avevano avuto il risultato, penso che far vedere le cose che hanno funzionato, l'Italia ha usato molto, io ho visto un vostro convegno un giorno qui a Bruxelles, anni fa, avete detto sia questo, che il piano Juncker, quante cose hanno fatto per le PM italiane, però molti non lo sanno, e molti credono che... Quindi dobbiamo andare a prenderne quasi uno per uno per fargli vedere che le cose sono importanti. Secondo me è fargli vedere qualche buona pratica di successo, se un loro collega, diciamo, come loro ce l'ha fatta, può dire che l'Europa non è così chiusa e refrattaria. Certamente. O è piena anche di lentezze, noi lo sappiamo, e non è che è tutto oro, però insomma... Una battuta mi viene spontanea per chiudere questa parte appunto che è l'ultima sulla parte scena italiana, poi andiamo in conclusione. Beh, non possiamo parlare di... Non possiamo non parlare di PNRR. Allora, io come direttore Apre sono un po' preoccupato, ve lo dico perché vedo con quanta intensità in questo momento il sistema di ricerca italiano, ricerca pubblica, ricerca privata, industriale, accademica, è impegnata fortemente nel PNRR. Siamo tutti d'accordo che quella è una partita che non possiamo mandare disattesa, e quindi questo è chiaro. Però sappiamo perfettamente, e lei ne è cosciente, che la complessità o le liturgie di Horizon sono tali che perdere due o tre anni significherebbe perdere una marcia che poi non riusciremo a recuperare per competitività. Allora, come si trova un equilibrio tra queste due missioni che non possiamo abbandonare contemporaneamente? Io penso che sarà... bisogna che si sia consapevoli di una cosa, che PNRR ha un termine oltretutto. Se noi prosciughiamo o rendiamo aridi i canali quelli che continueranno nel tempo, perché la nostra programmazione è 21-27, ma poi c'è l'altro bilancio poi 27, Horizon c'è, si è conquistato la sua centralità e io penso solo che potrà avere più risorse. Ha tentato anche stavolta di togliere un po', ma grazie anche a Sassoli l'ultima notte del bilancio pluriannale, perché lì stava la garanzia per finanziare il PNRR e da lì prendevano un po' di risorse e per i vari paesi che avevano dei problemi. Si è messo... In Italia c'è stato un grande movimento, io devo essere grata a voi, ma anche a Parisi, a Maldi, a Maiani hanno fatto un grande movimento per difendere le risorse della ricerca europea. Dunque, io penso che siccome questo è un filone permanente, il PNRR, pur straordinario, però ha un inizio e una fine, almeno per quanto riguarda i progetti, poi saranno sviluppati, poi le cose che si mettono in moto dovranno andare avanti. Noi non possiamo tralasciare l'importanza della continuità, dell'alimentazione anche di questo filone, perché sarebbe il colmo che se per usare giustamente lo strumento straordinario si perdesse di vista l'altro. Io penso che ci sia proprio capitale umano per fare entrambe le cose. Più in difficoltà vedo i comuni e gli enti locali, si devo dire, sul PNRR, perché non hanno abbastanza personale per poter far tutti calare sul territorio i progetti, ma dal mondo della ricerca e della scienza sia pubblica che privata, mi aspetto proprio lo sforzo per prosciugare tutti i pozzi che ci sono. Quindi dobbiamo abbeverarci a tutte le fonti e non dimenticarne una. Anche perché c'è un tale fabbisogno che non è che possiamo credere. A chiosa di quello che ha detto, non a lei, ma a quello che rappresenta come istituzione, devo dire che il Parlamento ha fatto una grande battaglia per la difesa del budget di Horizon Europe e su questo voglio dire, magari non è noto a tutti ma è stato veramente importante. Supportati da tutto il mondo intorno della ricerca e devo dire, siccome poi alla fine della chiusura finale del bilancio c'era il presidente Sassoli prima che arrivasse qui gli abbiamo detto se non arriva bene non lo votiamo. A parte quello lui è proprio difeso. Abbiamo anche ricordato una persona importante che ha avuto un ruolo importantissimo in questi anni a livello di questa istituzione. Siamo alla chiusura e quindi siamo qualche battuta finale. Abbiamo citato prima il COFOI, il COFOI è stato questo grande esercizio di costruzione di una riflessione sul futuro dell'Europa dove c'è stato un coinvolgimento anche dal basso del cittadino e tutto. Lei sa che noi abbiamo richiamato l'attenzione del COFOI perché ci siamo accorti che a un certo punto la ricerca e innovazione non era stata un elemento fondante di un ragionamento iniziale. Secondo lei adesso poi il COFOI ha fatto e continuerà in altre forme eccetera ma è d'accordo sul fatto che oggi è difficile immaginare di disegnare un'Europa del futuro senza tener conto del ruolo della ricerca e innovazione? No, assolutamente è talmente quasi starei per dire non si è dedicato un capitolo ad hoc perché la si dà per scontate in qualche modo ed entro nei vari documenti eccetera non c'era un capitolo dei vari gruppi che la comprendeva come titolo direi che dobbiamo stare attenti adesso all'attuazione siccome qui si apre una grande stagione si aprono la riforma dei trattati questo è stato l'impegno politico conclusivo il Parlamento ha chiesto di aprire la riforma dei trattati per togliere una limitata eccetera ma c'è tutta l'attuazione delle raccomandazioni e lì dentro ci sono proprio questi filoni ci sono tutti è inimmaginabile parlare del futuro dell'Europa senza parlare del futuro della ricerca dell'apporto che ricerca scienza e tecnologia una sola parola noi dobbiamo fare grandissimi sforzi e continuiamo a disegnare obiettivi sempre più ambiziosi giorno per giorno cioè Green Deal Climate Law per dire al 2050 decarbonizziamo e al 2030 pure abbattiamo del 55% Fit for 55 adesso il Repower cioè è un continuo arrivo di documenti perché la situazione sull'energia diventa sempre più problematica la Russia e la nefasta diciamo guerra che la Russia ha portato in Ucraina quindi continuiamo a correre a disegnare ambizioni per cercare di ridurre la dipendenza se non eliminarla eliminare quella dalla Russia e ridurre in genere il gas in tutto questo ci sono obiettivi ambiziosissimi solare e olico gas rinnovabili biometano eccetera idrogeno pensate voi efficienza energetica che noi potremmo raggiungere questi obiettivi ambientali senza uno sforzo di innovazione e di tecnologie abilitanti pazzesco ecco solo questo fa capire diciamo se uno già non credesse alla scienza che senza questo noi non raggiungeremo gli obiettivi di sostenibilità viene in mente una battuta proprio di Moedas quando diceva oggi parliamo di soluzioni che non esistono e che forse da qui al 2050 ma meno della metà sappiamo anche come poterle andare a immaginare quindi abbiamo bisogno di un percorso che è tutto ancora da costruire in ambito tecnico scientifico quindi sono sicuro di questo allora abbiamo parlato di engagement abbiamo parlato di coinvolgimento del cittadino noi come Apre stiamo cercando di capire che cosa ci sta chiedendo la commissione quando ci dice Horizon Europe è un programma nel quale il cittadino deve entrare di più le do una battuta noi abbiamo lanciato un'iniziativa che si chiama Horizon Europe Young Ambassador dove abbiamo cominciato a lavorare con i ragazzi e non è un nostro core business chiaramente è quasi un hobby che ci permettiamo di fare nel tentativo di capire come sono le nuove narrative perché raccontare a uno scientifico Horizon Europe qualche volta è complesso ma raccontarla a qualcuno che non è un addetto ai lavori è molto più complesso allora la battuta in questo senso è anche un suo giudizio su questo ma come si fa a coinvolgere davveramente adesso non voglio una risposta definitiva ma secondo lei qual è l'approccio corretto nel dire portiamo il cittadino ad essere attore anche di un processo di crescita non dico scientifica e tecnologica ma di quello che la crescita scientifica e tecnologica avrà come impatto sulla sua vita lei ce l'ha qualche a parte quello che avete fatto su COFOE no 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 io penso questo si potrebbe proprio dire COFOE era il futuro nelle tue mani dell'Europa gestisci non è che butti via c'è una responsabilità qui si potrebbe dire se non ti occupi della scienza e della ricerca la scienza e della ricerca si occupano di te si occupano di te fanno di te quello che vogliono o ti possono aiutare però io penso guardi che con tutti persino gli svantaggi che parlava di scienza diciamo chiunque sulla strada però questa grandissima informazione anche distorta a volte autoreferenziale eccetera che c'è stata ci ha fatto conoscere questi soggetti che sono gli scienziati ricercatori durante il covid io penso che questo ha familiarizzato con tutti anche le eccessi di questo ha fatto familiarizzare le persone con tutto questo e se da lì tiriamo fuori qualche anche buon programma di informazione televisivo per esempio l'iniziativa dei giovani dovreste farvi sostenere un po' dall'Europa anche in questa comunicazione per far capire che non è scienza e società è la nostra ambizione ma come fai a portare la società dentro la scienza che dice la sua perché è destinataria la società il cittadino è destinatario della scienza quindi io non capisco niente di biotecnologie ma capisco in cosa consistono ma capisco che possono cambiare la mia vita e quindi ecco se non si occupi della scienza e della ricerca loro si occupano di te sarà bene che ci guardi lei non doveva convincermi però recupererò proprio quest'ultima battuta che mi è piaciuta molto che comunque sia puoi non essere attore ma comunque sarai comunque soggetto a quello che la scienza e la tecnologia porterà quindi forse varebbe la pena di trovare prima un ruolo in quello che è lo sviluppo di quello che accadrà nei prossimi mesi nei prossimi anni nei prossimi decenni abbiamo finito un'ultima battuta io chiedo generalmente negli apretalk faccio l'ultima battuta mi aiuti a costruire una clip promozionale di 60 secondi per raccontare a questo punto non a me ma a chi ci ascolta lei ha passato gran parte della sua vita in Europa e lavorando per l'Europa sa benissimo che ci sono stati momenti difficili ci sono momenti di messaggi complessi da passare rispetto all'Europa perché l'Europa è stata vista spesso in maniera forse anche ingiusta in un'ottica o nell'altro ma vorrei che facesse proprio da testimonio per una clip di 60 secondi del perché abbiamo bisogno dell'Europa e perché la gente deve continuare a credere che in realtà è qualcosa che aiuta il nostro futuro e serve a costruire il nostro futuro e non è un peso io guarderei non so mi viene questo da dire ma mille sarebbero le modalità per dirlo poi non sono brava nella comunicazione io guarderei una cartina geografica io lo studiavo geografia a scuola però ho capito l'importanza della geografia quando ho fatto politica estera al ministero in Italia la geopolitica se guardate una cartina ecco l'Italia è quel filettino lungo e stretto pieno di capacità imprenditoriali siamo una potenza industriale di trasformazione siamo cultura siamo diritto siamo scienza siamo tantissime cose siamo agricoltura però che cosa conta quel piccolo paese importantissimo ma di fronte ai grandi continenti del mondo e le grandi potenze del mondo da solo conta proprio poco anche se è grandissimo come capacità per questo dobbiamo metterci insieme io vedo ecco guardate l'Europa guardate la Russia a questo momento faccio difficile anche l'America del nord l'America del sud l'Africa noi siamo lì pieni di storia di cultura di capacità di tante cose ma se siamo insieme abbiamo una voce se siamo da soli la nostra forza è insignificante allora finiamo su queste parole che quindi ci rimandano a uno sforzo ancora tutto da costruire per un'Europa ancora più grande e più forte io la ringrazio onorevole per il tempo che ci ha dato non erano 60 secondi non erano una clip 60 secondi ma non sono capace la taglieremo in modo tale che sia nei tempi va benissimo così la ringrazio ancora del tempo so in realtà poi con Apre abbiamo tantissime occasioni di incontrarci per cui lavoriamo insieme e so tutto quindi credo ci sono molte cose davanti per tutto l'abbiamo detto sia per voi come parlamentari sia per voi come Commissione ITRE e sia per noi di Apre quindi l'augurio a un buon lavoro a lei e anche a noi perché ci abbiamo tante cose da fare grazie grazie a presto grazie grazie a tutti grazie a tutti